Salve ragazzi, sono il Yolter Kurama, oggi vi porterò la Eternity Winner. Grazie a tutti. ok parliamo di labi prima di tutto che chi è labi che personaggio è prima di tutto dovrebbe essere un demone lei però non segue il mondo di elzord e quindi non ha non fate tutte le città di elzord paesi di elzord ma lei c'ha un mondo suo a parte potremmo dire che lei è il primo personaggio che è stato creato che non segue la storia del mondo di elzord e che poi dopo viene collegata insieme a elzord a compari se mi sono spiegato bene lei è il primo personaggio poi è arrivato noa che è il secondo personaggio così via così via forse ne faranno altri vediamo speriamo perché è bella come idea di un personaggio che non segue la linea della lore di elzord mi è piaciuta molto come idea allora labi prima di tutto se noi clicchiamo la cresci potere non è come quello degli altri che si tra gli fa la cresci potere c'è un tot di ricarica ma noi per fare la cresci potere suo originale ve lo faccio vedere si attiva quando arriva a quella barra però purtroppo mi sa che l'audio è un po a cap zoom un attimo eh guardate un po qua ok no un attimo eh ragazzi ok adesso è abbastanza più equilibrato l'audio allora poi se noi clicchiamo la cresci potere stugniamo e facciamo danno perché è così per lei e poi vabbè attiva volontà liberata e poi abbiamo i punti sentimento labi utilizza i punti sentimento per potenziale combo tali punti eh possono essere rigenerati immediatamente la skill aura interiore effetto combo media auto ps punti sentimento 5% di probabilità di attivazione dell'attacco doppio 100% di ignorare le difese danno e raggio dell'azione del colpo più 18% questo è il punto di sentimento su tutte le labi tutte e quattro vedete noi facciamo questo consumiamo attiviamo questa e continuiamo a caricarlo ok allora ora vi faccio vedere le combo del personaggio e poi iniziamo subito con le spell base me ne mancherebbe una ma vabbè non importa questa è la prima combo se vedete dei cosetti che vanno addosso al nemico e questa bolla è una passiva che vedremo più avanti che vi spiegherò poi ah adesso vi faccio vedere la cosa più forte di labi avete notato quanti scattini ha vedete quanti scattini ha per essere un personaggio molti ok questa è la labi allora passiamo alle spell basi la prima è questa aura interiore è anche un buff attacco e attacco magico incrementato i tuoi punti di sentimento si rigenerano ogni secondo gli hp in mezzo verranno incrementati e il danno subito viene ridotto questo è il buff che vi dirò subito lo giocherete su tutte e quattro le labi non lo userà lo sfrutta tutti il punto di sentimento quindi si questa spell la userete su tutti quattro le labi ognuno con un differente modo potremmo dire poi abbiamo questa questa la potete fare solo in salto questa non posso farvela vedere contro un povero pupazzo di pietra ma contro qualcun altro insieme anche eh ho shottato ops ops parte 2 em e ora come faccio vabbè vi faccio vedere questa spell eccola questa è la sua spell eh prendiamo low va sperando che mi picchia low mi serve qualcuno che mi picchia ops solo per farvi vedere eh perché mi li scioglie porca miseria sto personaggio aspettate ok ok questa è la sua escape io un attimo che ciao mi sei servito con onore adesso puoi andare ah non c'ho nemmeno i cosi ah vabbè non notate quello che ho perché si allora non farò tanti danni però è solo per farvi vedere com'è il personaggio allora questa è una spell molto forte e la userete sempre poi ci starebbe questa che non c'ho perché mi sono scordato forse di falla allora mi sono scordato quello che fa questa penso che c'aveva questa boh non lo so non mi ricordo molto bene tutte le skill passiamo alla passiva allora la B è prendere la tecnica del suo maestro il suo maestro è Gachar ve lo dico subito gli attacchi magici delle sue skill diventano attacche fisiche inoltre si potenzia gli attacchi acquisisci l'abilità la skill attivate da combo con la quale riesce ad attivare skill tramite combo allora ora ve lo spiego attacco più 12 più 12% vedete pugno boom c'ho un pochino di sonno voi cliccate il tasto e ce l'avete in questa barretta qui e voi mi direte ma questo è tipo il memorizer di Aisha si ma era 50 volte meglio secondo me perché ve lo dico perché perché questa meccanica di Labby era veramente forte ai tempi quando era uscito perché questa Labby quando faceva qualcosa c'aveva sempre due volte di Memorize su ogni spell adesso alcune spell ce l'hanno una alcune no e poi era molto più forte fidatevi era molto più forte questa così che che altro la Demeretta che l'ho giocata ai tempi questa Labby quando è uscita è veramente forte era mamma mia quando era forte poi l'hanno uccisa mamma mia quando l'hanno uccisa comunque vi faccio vedere le spell questo è un buff anzi è una cosa che rimuove i debuff ha anche una mod che è simile potremmo dire rimuove i debuff e mette protezione KO come notate poi abbiamo pugno boom pugno boom ve lo ho fatto vedere fa questo su tanti mob fa un botto di più anche lei na mod che è veramente forte fidatevi come notate è veramente forte no fidatevi è fortissima soprattutto quando becchi tanti mob un mob al muro perché i colpi al muro di pugno boom guardate quello che fa vedete fa un botto di colpi al muro questa è veramente forte poi abbiamo questa che ok poi c'è questa che ok questa è la vostra spell di pulizia ed insegue poi questa e poi c'è questa ok fammi vedere se ho tutto sì vabbè c'ho tutto allora mi vedrete togliere le cose ma comunque ragazzi la build di questa classaggio è veramente ma veramente ma veramente fidatevi che è capibile perché è veramente forte come personaggio era forte ma l'hanno ucciso e ma qua che cazzo gli devo fare oh no boh non lo so nemmeno io forse questo facciamo poi dopo in caso cambio se ho sbagliato allora prima di tutto passiva prima di tutto le varie passive allora insegnamento del signore maestro l'allenamento ha dato i suoi frutti l'abbì ha migliorato le abilità fisiche nella situazione di pericolo le torna in mente gli insegnamenti del maestro incrementa i valori di devastazione di danno critico e la durata massima della crescita di potere devastazione più 18% danno critico più 15 e durata a crescita di potere più 20 secondi poi omaggio incrementa i danni delle skill attive da combo danno delle skill attive da combo più 25% questa la dovete sbloccare però vedete questa la salute in cui conta incrementa i tuoi mp massimi e conferisce degli effetti extra ad aura interiore l'attivazione di aura interiore riduce il danno subito e incrementa i tuoi hp massimi 100% effetto extra di aura interiore danno subito meno 10 e hp massimi più 15% e poi abbiamo pronto a combattere incrementa la quantità di mp acquisiti tramite dei bei colpi eseguiti da combo e mp incrementa la quantità massima di sprint aerei si ne avete molti di più di sprint aerei su di lei quantità massima di sprint aerei più 2 acquisizione mp in caso di bei colpi causati da combo e punti sentimento 60% devo togliere anche questa perchè non è la iper giusta allora passiamo prima a questa spell che non si vede perchè come notate questo è il primo colpo poi questa che è un altro buff incrementa l'attacco a tutti i danni a tutti i danni vabbè non l'ho capita questa e poi abbiamo questa carina passiamo al combo spell prima combo spell e voi mi direte ma è fortissima eeeh nifini poi abbiamo sfera di labi che io vi vi dico subito sfera di labi era fortissima mamma mia quando era fatta prima mi potevi lanciare due a botta poi con la mod mamma mia era una bestia di satana sta spell perchè vedete lei ne poteva lanciare due a botta e faceva così invece sfera di labi con quella cosa che vi ho detto che ne lanciava due a botta ne lanciava quattro botta di queste di queste palle che faceva un clear della madosca con sfera di labi molto forte poi c'è questo occhio che io non ho ancora non c'ho né gli anelli né niente quindi ovvio che farò meno danno di tutto vi avverto subito poi abbiamo finito mancherebbe l'hyper che non so se posso usare se ce l'ho ok questa l'hyper nulla di che molto ok e adesso vi mostro trascendenza e poi la seconda hyper perché vi mostro prima le spell della trascendenza poi la seconda hyper e le master road vediamo se io le riesco perché molte volte ci sta la cosa che ci sta i video con le cose quindi non so se potrò portarvelo sempre questa cosa delle master skill quindi vedrò come fare allora volontà liberata bocciolo turbinante dopo l'utilizzo delle skill con accresce il potere il tempo di attesa delle skill si riduce gli avversari colpiti invece vedranno ridursi tutte le difese e la resistenza degli attacchi degli attacchi degli attacchi la resistenza agli attributi ok porca miseria come scrivono del cazzo difesa e difesa magica meno 8% resistenza degli attributi meno 50 e durata 10 secondi che cosa dovete fare fate questo e si procca la volontà le attese le attese scorre più veloce benissimo poi vabbè specializzazione migliora tutte le capacità fisiche attacco e attacco magico del 10% difesa e difesa magica del 10% e poi gli hp standard 10% tutto 10% perché se facevano un po' di più era un po' troppo broken la cosa allora poi passiamo alla seconda passiva l'ab non si sente a suo agio con nisha che però è in grado è un grande aiuto in battaglia e riducere il consumo ampi delle skill attive da combo quando utilizza skill attive da combo il tempo di attesa delle skill attive speciali potrebbero azzerarsi quando questo effetto si attiva l'acquisizione mp aumenta per 10 secondi nisha è un essere misterioso a dire il vero l'avi lo teme ma il potere di ma il potere di nisha quasi di mp delle skill attive da combo meno 12 probabilità di azzeramento del tempo di attesa delle skill attive speciali in caso di utilizzo di una skill attiva da combo 60% acquisizione mp più 30 passiamo alle spell prima spell la potete fare in alto e in basso poi potete questa è un attivo che potete fare solo in alto poi questa non mi ok questa la potete fare a me fare pure in alto un attimo si e poi abbiamo questa che come notate non sta dando eh da il buff che cosa fa allora consuma tutti i punti di sentimento il tuo danno incrementa per dell'un per cento per ogni mp utilizzato per 5 secondi le velocità si riducono al 5% e viene e viene baffato comunque occhio ricordatevelo poi abbiamo anche la mod veramente forte che comunque fa più danno di quella non mod e occhio io non ce le ho i punti di sentimento eh perché io comunque non li sto usando però quando vi farò vedere come si questa classe è un po' difficile da dire qual è tra le quale sarebbe la sua skill fondamentale perché se vi ricordate il video del sito lei si sfrutta il pugno boom o una 300 quindi dovete scegliere voi però vi consiglio più pugno boom perché è veramente forte come spell e quindi dovete lanciare spell da 200 quindi se avete un anello da 200 è ok allora passiamo alla alla sua hyper che è veramente forte questa è la sua hyper secondaria non ve l'ho detto giustamente questa classe è hyper dipendente che significa questo senza hyper non fa nulla molte volte potremmo dire che è un po' ai livelli della metamorphy però lei però fa un botto più di danno della metamorphy per i miei pareri e con l'hyper l'aiuta solo a fare un po' di più l'utilizzo della skill fa di più della metamorphy per i miei pareri però sinceramente boh non lo so secondo me è molto più forte della metamorphy parere mio però vedremo allora nisha ormai è parte di labby o meglio parte di labby si trova in nisha labby per questo motivo non deve avere paura di nisha in questo modo potrà sfruttare al meglio e senza esitazione i poteri di nisha l'effetto non mi piace quello delle skill non si attiva quando labby tocca nisha verrà modificato in tutto ok attacco e danno complessivo del bel colpo aumentano per 12 secondi poi vabbè fa un po' la spiegazione perché attacco più 15 e danno più 20% e poi abbiamo questa potenza di labby vi ricordate queste cose eccola questa è la passiva la sfera shock segue gli avversari e infligge danno senza immobilizzare la sfera delle rigenerazioni riprise nei tuoi hp e mp quando le tocchi vi da un 15% comunque che non è male anche un ottimo recaggio di mp poi in caso vi vedrò se c'è qualcosa della master skill ma mi sa che non ve le posto più quelle che ho ve le posto quelle che non ho non le posto più ho deciso sinceramente è l'unico modo perché non so cosa fare allora prima di tutto spell da mettere sulla labby le trascendenza saranno queste due dove è pugno boom eccolo qui queste due sono da trascendenza questa vabbè ricordatevi sempre che questo è il buff per tutte le labby non ve lo dimenticate mai perché se no mi arrabbio ma ragazzi è utile perché prima di tutto vi da il buff vi da un buff veramente forte poi avete la possibilità di di ricaricarvi i punti di sentimento che non è poco da schifo proprio non è da schifare sta cosa di punti di sentimento che comunque ah cazzo è vero che ok allora poi aspettate questa pure è sempre ottima però labby gli serve le sue spell principali poi 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 ok questa non era mi pare pure questa è carina e questa vi dirò subito che labby sfrutta tantissimo la cosa delle di questi qua uno due tre e quattro quindi occhio allora adesso questa è la build poi in caso quando la sistemerò ve la farò vedere meglio prima di tutto aura interiore questa e poi questa questa e come avete visto potete ve lo dico potete sfruttare sia questo che i pugno boom sono entrambe due spell fortissime però peccato che una è una 200 e una è una 300 quindi dovete scegliere voi perché dovete pensare che che questo questo personaggio prima di tutto deve caricare i pugni di sentimento poi va a farsi e poi può fare questo e fa un danno atroce con pugno in boom invece fate questo quindi occhio perché è veramente forte il personaggio dovete sfruttarlo al meglio è veramente forte bene ragazzi questa è la eternity winner spero che il video vi sia piaciuto e commentate e iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video che sarà la seconda classe di labbi e niente alla prossima video ciao ragazzi